... Io ho da 19 anni che diserto lo stadio, perché non intendo foraggiare questa gestione, che per me non è niente di laziale, ma oggi sono qui proprio per una testimonianza e per cercare di dare il via a un qualcosa che tutti noi speriamo. Perché lo dico non ci rappresenta, non ci è mai rappresentata, non ci rappresenterà mai, se continua così, se continua così. Facciamo da 20 anni, sono 20 anni che stiamo galleggiando, siamo la squadra di Roma e galleggiamo. È una gestione indegna di una città come Roma, dovrebbe proprio essere gestita in maniera molto più organizzata, una struttura molto più complessa, questo è un uomo solo al comando che fa tutto lui e fa anche male perché c'è altre cose a cui pensare. ... Perchè lo dito se ne ne deva andare tanto per catà perché lo dito se ne deva andare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.